Cari colleghi, cari amici, la Società Italiana di Parodontologia in associazione con l'Accademia Italiana di Conservativa e l'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica ha organizzato nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 ottobre un corso di aggiornamento alla stazione Leopolda di Firenze. Vi aspettiamo numerosi a partecipare a questo corso che si occuperà del recupero del dente gravemente compromesso da patologie dentali. Arrivederci a Firenze!